Nasce a Miano, presso l'Istituto Comprensivo 64esimo Roda Rimuscati, il Museo della Legalità. Inaugurato questa mattina alla presenza del sindaco Luigi De Magistris, il progetto vuole essere un presidio sul territorio dell'area nord di Napoli per combattere la dispersione scolastica, il bullismo e la criminalità minorile, con la dirigente scolastica Giuseppina Marzocchella che sulla scia dell'iniziativa Miano in Testa, promossa con successo l'anno scorso, ha inteso rafforzare l'offerta formativa sul territorio. C'erano rappresentanti di istituzioni, associazioni, docenti e di diversi istituti scolastici della municipalità. È un'esperienza straordinaria di una comunità scolastica che sta facendo un lavoro incredibile con i bambini, ovviamente la scuola, i genitori, soprattutto le mamme, un concetto dinamico di legalità contro la violenza e il bullismo per la vita, per il quartiere, per la solidarietà e per il riscatto del territorio. Insieme alle istituzioni, un grande lavoro di squadra che sta dando dei risultati incredibili. È un museo davvero straordinario, merito dei ragazzi e dei bambini. Il Museo della Legalità, allestito negli spazi della scuola, è dedicato alla commemorazione delle vittime delle mafie. Ospiterà incontri sul bullismo, ma anche corsi di formazione e avviamento al lavoro per i giovani, percorsi didattici e mostre.